12 modi comprovati per fare soldi con il marketing digitale Scoprite i metodi migliori per fare soldi online sfruttando le vostre capacità di marketing digitale Come funziona ogni metodo e quanto denaro si può guadagnare Volete imparare a guadagnare con il marketing digitale? Che si tratti di avviare una propria attività online, di vendere servizi freelance o di ottenere un lavoro dipendente Ci sono molti modi per guadagnare con il marketing digitale In questa guida vi illustrerò i 12 modi più efficaci per guadagnare con il marketing digitale e alcuni passi, pratici da compiere per iniziare Immergiamoci subito in questa guida Come guadagnare con il marketing digitale Ecco i metodi più popolari per guadagnare con il marketing digitale Guadagnare come scrittore di contenuti Diventare un esperto SEO e vendere servizi SEO Guadagnare con il marketing di affiliazione Vendere servizi di consulenza alle aziende Guadagnare vendendo annunci pubblicitari Lavorare come social media manager Creare e vendere i propri prodotti digitali Diventare partner pubblicitario di YouTube Diventare uno specialista di e-commerce Gestire campagne PPC per altre aziende Ottenere un lavoro nel marketing digitale Avviare la propria agenzia di marketing digitale 1. Guadagnare come scrittore di contenuti La scrittura di contenuti comporta la pianificazione e la stesura di contenuti per i canali online Di solito fa parte di una strategia di marketing digitale e può includere la scrittura di un'ampia gamma di Tipi di contenuti, tra cui articoli, post di blog, post per i social media e script per i video Per diventare uno specialista della scrittura di contenuti, è necessario sviluppare una serie di competenze e soddisfare determinate qualifiche Queste includono Capacità di scrittura Capacità di ricerca di parole chiave Competenze SEO Capacità analitiche Se si vuole lavorare per un'azienda, è necessario avere una laurea, di solito in giornalismo, marketing o comunicazione I diplomi universitari sono meno importanti per i freelance Sia che lavoriate autonomamente o con un'azienda Ottenere diverse certificazioni di content marketing può aiutarvi a migliorare le vostre competenze e la vostra reputazione Esistono numerosi corsi di content marketing, sia gratuiti che a pagamento, che possono essere utilizzati per ottenere la certificazione È anche una buona pratica aprire un proprio blog Questo vi permetterà di sviluppare ulteriormente le vostre competenze e potrà servire come punto di forza quando Cercherete di ottenere un lavoro o dei clienti freelance Quanto si può guadagnare come specialista dei contenuti? Dipende dalla posizione lavorativa e da una serie di altri fattori Ad esempio, se lavorate in un'azienda, lo stipendio medio di base per gli autori di contenuti è di 3509 dollari al mese Se lavorate come freelance nel settore del marketing dei contenuti, potete essere pagati a pezzo, per articolo, eccetera Per ogni parola scritta si può richiedere un compenso compreso tra 0,10 e 0,50 dollari La tariffa esatta dipende dal tipo di contenuto e dal vostro livello di competenza sull'argomento È anche possibile acquisire le competenze necessarie e diventare uno specialista di content marketing In questo caso, lo stipendio medio di uno specialista di content marketing è di 81.000 dollari all'anno Questa cifra varia in base alla posizione e al livello di esperienza 2. Diventare un esperto SEO e vendere servizi SEO La SEO è una delle aree più importanti del marketing digitale da padroneggiare, poiché può essere utile in una varietà di ruoli diversi Come esperto SEO, potete vendere i vostri servizi a clienti meno esperti in materia Per diventare un esperto SEO, dovrete innanzitutto comprendere i dettagli del funzionamento dei motori di ricerca Dopodiché, dovrete iniziare a sviluppare le vostre competenze SEO Sul web non c'è carenza di materiale SEO È consigliabile trovare un corso SEO di alta qualità, poiché è facile perdersi tra l'infinita quantità di articoli Man mano che le vostre conoscenze e competenze iniziano a crescere, vorrete familiarizzare con gli strumenti SEO più diffusi per semplificare il vostro modo di lavorare La SEO è in continua evoluzione, quindi è importante rimanere aggiornati su tutte le ultime modifiche SEO ed essere in grado di adattare i propri progetti di conseguenza Per vendere con successo i vostri servizi, dovrete creare una rete di potenziali clienti Create un sito web per fornire il vostro background nella SEO ed elencare i vostri servizi Potete aprire un blog e mettere in pratica le vostre competenze SEO portando traffico mirato al vostro sito Man mano che iniziate ad acquisire clienti, vorrete tenere un registro dettagliato dei vostri risultati, in modo da poter creare dei casi di studio da utilizzare per ottenere più affari Quanto si può guadagnare come esperto SEO? La tariffa oraria media per i consulenti SEO è compresa tra 50 e 125 dollari I prezzi variano a seconda del paese e dell'esperienza 3. Guadagnare con il marketing di affiliazione Il marketing di affiliazione è un modello di business in cui si guadagnano commissioni grazie alle vendite di prodotti altrui Il processo è semplice Trovate i prodotti che volete promuovere Create un sito web che li promuova e portate i visitatori interessati ai vostri prodotti affiliati Esistono due tipi principali di partnership di affiliazione I programmi autonomi, in cui si crea un account direttamente con un'azienda E le reti di affiliazione, in cui è possibile aderire e gestire più partnership su un'unica piattaforma Poiché il vostro blog sarà il mezzo principale per promuovere i vostri prodotti di affiliazione È importante effettuare una ricerca sulle parole chiave prima di scegliere una nicchia In questo modo, potrete vedere il volume di ricerca mensile per i termini correlati e ottenere una stima della quantità di Traffico che sarete in grado di generare È bene prestare particolare attenzione alle parole chiave con intento di ricerca transazionale Si tratta di termini di ricerca che indicano che qualcuno è prossimo all'acquisto di un prodotto Spesso includono parole come acquistare, ottenere uno sconto, ecc. Inoltre, cercate termini di ricerca con intento commerciale Queste parole chiave indicano che qualcuno si trova nel processo di acquisto, ma non ha ancora deciso un prodotto specifico Includono parole come best, review, product X vs product Y Concentrarsi su queste parole chiave vi aiuterà a monetizzare il traffico che portate al vostro sito web Una volta che avrete un'idea dei tipi di prodotti che volete vendere dovrete creare il vostro blog e iniziare a scrivere contenuti La scelta delle parole chiave giuste renderà più facile l'inizio Perché potrete trovare confronti tra i prodotti e recensioni da scrivere per i vostri post iniziali Sebbene sia possibile aderire ai programmi di affiliazione prima di aprire il blog Spesso è buona norma aspettare di ricevere un po' di traffico Dopotutto, il traffico vi servirà comunque per generare vendite Inoltre, molti programmi di affiliazione hanno dei requisiti per l'approvazione e possono richiedere che abbiate già un pubblico consolidato Quanto si può guadagnare con il marketing di affiliazione? Il marketing di affiliazione ha un enorme potenziale di guadagno Ma per ottenere risultati significativi è necessario stabilire la propria presenza sul web e generare una buona quantità di traffico sul proprio sito L'iscrizione a un buon corso di marketing di affiliazione vi aiuterà a ottenere risultati più rapidamente Se avete la pazienza di costruire l'attività, potete facilmente guadagnare 6 cifre all'anno con il marketing di affiliazione 4. Vendere servizi di consulenza alle aziende Una volta acquisita una certa esperienza nel marketing digitale, potete monetizzare le vostre competenze diventando consulenti di marketing digitale e iniziando a vendere servizi di consulenza ad altre aziende Per iniziare, procedete come segue Definire la propria area di competenza Per prima cosa, dovete essere in grado di definire i servizi specifici da offrire ai clienti Individuate le aree del marketing digitale in cui siete forti e in cui c'è un'elevata richiesta di servizi Tra queste potrebbero esserci Marketing sui social media Branding Marketing video Influencer marketing 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 locale Marketing via email Analisi e reportistica web Iniziare a bloggare Una volta stabilito il servizio specifico che offrirete, il passo successivo è iniziare a costruire la vostra presenza online Un sito web sarà il fulcro della vostra attività, dove potrete aggiungere testimonianze e casi di studio di clienti precedenti In modo che i visitatori possano saperne di più sulla vostra offerta Una volta creato il sito web, potete iniziare a creare il vostro blog L'utilizzo del blog per scrivere su argomenti di marketing digitale relativi ai vostri servizi di consulenza vi aiuterà a portare traffico rilevante alla vostra attività, espandendo ulteriormente la vostra presenza online Oltre a bloggare per ottenere contatti, potete anche usare un blog per fare soldi Leggete questa guida Come guadagnare con il blog per avere istruzioni passo dopo passo Costruire una rete Più cresce la vostra rete, più sarà facile trovare nuovi clienti Utilizzate la vostra rete professionale per trovare aziende che potrebbero essere interessate ai vostri servizi Potete anche contattare i vostri precedenti clienti per vedere se hanno dei contatti in cerca di servizi di marketing digitale Quanto si può guadagnare come consulente di marketing digitale? Il compenso di un consulente di marketing digitale dipende dalla sua particolare area di competenza, dalla portata del progetto e dal livello di esperienza 5. Guadagnare vendendo annunci L'inserimento di annunci sul vostro sito è un modo popolare per monetizzare il traffico del vostro sito web Per guadagnare in modo decente con gli annunci, è necessario che il sito abbia molto traffico Quando si sta costruendo il proprio pubblico, è una buona idea integrare gli sforzi di monetizzazione attraverso il marketing di affiliazione o offrendo i propri prodotti digitali Esistono molti programmi pubblicitari che possono essere utilizzati per monetizzare il traffico web Il più popolare dei quali è Google AdSense Quando vi scrivete ad AdSense e aggiungete il codice appropriato al vostro sito web Google inizierà a pubblicare annunci sulle vostre pagine web Gli annunci possono generare entrate attraverso le visualizzazioni e i click Tuttavia, Google paga molto poco per le visualizzazioni, se non addirittura nulla L'importo guadagnato varia in modo significativo a seconda della categoria del sito web dei dati demografici del pubblico e altro ancora Indipendentemente da questi fattori È necessario prevedere di generare un traffico considerevole per ottenere un reddito significativo Esistono altre reti pubblicitarie oltre a Google AdSense Tra cui ezoic, media.net e propeller ads Se il vostro sito web riceve già una quantità costante di traffico e volete avere un maggiore controllo sugli Annunci che appaiono sul vostro sito Potete vendere annunci diretti sul vostro sito web Create una pagina, pubblicità con noi, per il vostro blog che illustri in dettaglio i diversi formati di annunci disponibili e il loro costo Dovrete includere importanti statistiche sul traffico, in modo che gli acquirenti sappiano il valore che stanno ricevendo Se non volete occuparvi personalmente della vendita degli annunci, esistono diversi mercati online in cui potete inserire i vostri annunci e farli acquistare Alcune opzioni popolari sono buysell ads e blog ads Quanto si può guadagnare vendendo annunci sul proprio sito web? Indipendentemente dalla rete pubblicitaria utilizzata, è necessario ottenere 100.000 impressioni di pagina al mese per ottenere un reddito significativo L'RPM di Google AdSense, entrate per mille impressioni, può variare da 0,25 a 3 dollari 6. Lavorare come social media manager Lavorare come social media manager è un ottimo modo per sfruttare le proprie competenze per guadagnare attraverso il marketing digitale Come social media manager, cercherete di far crescere la presenza online di un marchio attraverso una serie di tattiche di marketing Le vostre responsabilità possono andare dalla scrittura e programmazione dei post, alla creazione di grafici, alla gestione degli annunci, fino alla risposta ai commenti dei follower Ci sono diversi modi per trovare lavoro come social media manager Si può ottenere una posizione retribuita presso un'azienda Parleremo più avanti di come trovare lavoro nel marketing digitale Oppure si può lavorare come freelance nel marketing digitale Come per la vendita di servizi di consulenza Dovrete costruire la vostra rete di contatti e stabilire la vostra reputazione per ottenere un flusso costante di clienti Creare un sito web con un portfoglio di clienti precedenti e casi di studio dei risultati ottenuti può aiutarvi a ottenere nuovi affari Gli stipendi dei social media manager sono in media di 62.000 dollari all'anno Mentre i manager più esperti possono arrivare a 75.000 dollari Come freelance, il vostro guadagno dipenderà dal numero di clienti che avete e dal vostro livello di esperienza I nuovi social media manager possono guadagnare tra i 15 e i 50 dollari l'ora Mentre i manager esperti possono guadagnare dai 50 ai 100 dollari l'ora o più 7. Creare e vendere i propri prodotti digitali Potete mettere a frutto la vostra esperienza nel marketing digitale creando e vendendo i vostri prodotti digitali Il vantaggio dei prodotti digitali è che potete crearli una volta sola e poi venderli ripetutamente senza dover Continuare a procurarvi nuovi prodotti Ciò si traduce in margini di profitto estremamente elevati e nella possibilità di automatizzare facilmente la vostra attività Esistono diversi tipi di prodotti digitali, tra cui le opzioni più popolari sono Gli ebook Gli ebook sono uno dei prodotti digitali più semplici da creare e spesso è possibile utilizzare i contenuti Precedentemente pubblicati sul proprio blog per mettere insieme il prodotto in modo rapido I corsi Le learning è il futuro dell'istruzione, poiché sempre più persone si rivolgono a fonti online per ampliare le proprie conoscenze La creazione e la vendita di corsi online vi permette di condividere la vostra esperienza con gli altri ed è un ottimo modo per soddisfare questa domanda Oltre a vendere attraverso il vostro sito web, potete inserire i vostri corsi in mercati come Udemy per raggiungere un pubblico ancora più vasto Modelli web Se avete competenze di web design, potete creare modelli per piattaforme come WordPress o Shopify Sarete in grado di offrire i vostri prodotti sul vostro sito e su altri marketplace come Team Forest Per commercializzare i vostri prodotti digitali dovrete utilizzare gli stessi canali principali di un negozio che Vende bene i fisi Dovrete creare un blog per indirizzare il traffico verso il vostro sito web Raccogliere email e sfruttare l'email marketing e impegnarvi attivamente con il vostro pubblico sui social media Una cosa da tenere presente quando si vendono prodotti digitali è che si entra in competizione con tutti i Contenuti gratuiti disponibili su internet Dovete assicurarvi di condurre ricerche approfondite per garantire Che il prodotto creato fornisca un valore sufficiente a convincere le persone ad acquistarlo E che il prezzo della vostra offerta sia adeguato Quanto si può guadagnare vendendo prodotti digitali? La vendita di prodotti digitali online offre l'opportunità di guadagnare una quantità considerevole di denaro Potete facilmente fissare il prezzo dei vostri prodotti a centinaia o addirittura migliaia di dollari Con questi prezzi, non avrete bisogno di molte vendite per generare un reddito significativo 8. Diventare partner pubblicitario di YouTube Se volete guadagnare con il marketing digitale attraverso i video, potete creare un canale YouTube e diventare partner pubblicitari Il processo per guadagnare con YouTube è semplice Si creano e si pubblicano video sul proprio canale e si promuovono i video per creare un pubblico Ogni volta che il video viene riprodotto, viene visualizzato un diverso assortimento di annunci Quando qualcuno visualizza o fa clic su un annuncio sul vostro video, genererete una piccola quantità di entrate Per essere approvati come partner pubblicitari è necessario soddisfare i seguenti requisiti minimi Seguire tutte le politiche di monetizzazione di YouTube Vivere in un paese in cui è disponibile il programma partner di YouTube Avere più di 4000 ore di visione pubbliche valide negli ultimi 12 mesi Il vostro account ha più di 1000 abbonati Avete un account AdSense collegato In qualità di partner pubblicitario, si viene pagati per le visualizzazioni degli annunci Per determinare il vostro reddito potenziale, dovrete stimare il numero di visualizzazioni dei video che prevedete di ricevere Non tutti guarderanno gli annunci, quindi le visualizzazioni degli annunci saranno inferiori a quelle dei video In media, i partner di YouTube guadagnano da 0,01 a 0,03 dollari per visualizzazione dell'annuncio Ciò equivale a una cifra compresa tra 3 e 5 dollari per 1000 visualizzazioni di video Inutile dire che è necessario generare una quantità sostanziale di visualizzazioni video per ottenere un Reddito significativo con YouTube 9. Diventare uno specialista di e-commerce Con la rapida crescita dell'e-commerce, cresce anche la necessità di specialisti di e-commerce Uno specialista di e-commerce è responsabile della creazione e dell'esecuzione di una strategia di marketing per Aiutare le aziende a vendere prodotti online Alcune delle attività quotidiane di uno specialista di e-commerce comprendono Gestione del sito web Gestione delle campagne di marketing Ottimizzazione dell'SEO del negozio Regolazione degli elementi della pagina per migliorare l'ottimizzazione del tasso di conversione Impostazione di funnel di marketing via email Gestione di campagne di upselling e cross-selling Per avere successo come specialista di e-commerce sono necessarie diverse competenze vitali, tra cui capacità di comunicazione, analisi e pensiero critico Ecco alcuni passi pratici da compiere per sviluppare le competenze necessarie a diventare uno specialista di e-commerce Comprendere i dettagli dell'e-commerce Diventare esperti di SEO per l'e-commerce Familiarizzare con le piattaforme di e-commerce più diffuse Imparare a gestire gli annunci PP Padroneggiare l'ottimizzazione del tasso di conversione Sviluppare competenze di contente email marketing Lo stipendio medio di uno specialista dell'e-commerce è di 58.000 dollari all'anno, che variano in base alla posizione e all'esperienza Per i manager dell'e-commerce, lo stipendio può arrivare a 103 dollari l'anno 10. Gestire campagne PPC per altre aziende Poiché un numero sempre maggiore di aziende si rivolge ai canali di marketing digitale per raggiungere i propri clienti target, cresce la necessità di gestire campagne pubblicitarie efficaci Gli annunci PPC, Pay Per Click, sono una delle forme più popolari di pubblicità online e possono portare risultati immediati a un'azienda Le piattaforme PPC come Google Ads e Bing Ads consentono agli inserzionisti di fare offerte per posizionare Gli annunci nella pagina dei risultati di un motore di ricerca quando qualcuno cerca una parola chiave correlata La gestione delle campagne PPC comporta una serie di responsabilità, tra cui Trovare parole chiave PPC Aggiungere parole chiave negative Testare i gruppi di annunci Scrivere il testo dell'annuncio Impostare le offerte e i budget delle campagne Rivedere le parole chiave costose Ottimizzazione delle landing page Ottenere certificazioni da Google e Bing può contribuire a migliorare le vostre competenze e ad aumentare la Vostra credibilità nei confronti dei potenziali clienti Essere in grado di mostrare i risultati di precedenti campagne di successo è essenziale per ottenere un flusso costante di clienti Come per gli altri tipi di servizi, dovrete creare un sito web per evidenziare le vostre competenze e creare contenuti che possano contribuire a Generare traffico Quanto può guadagnare un manager di campagne PPC? Lo stipendio medio di uno specialista PPC è di 60.000 dollari all'anno 11. Ottenere un lavoro nel marketing digitale Se volete acquisire una preziosa esperienza prima di lavorare in modo indipendente o di avviare un'attività, in proprio, potete trovare un lavoro nel marketing digitale Esistono diversi tipi di lavoro nel marketing digitale, alcuni dei quali sono stati trattati in questa guida Ecco alcuni dei luoghi più popolari dove cercare lavoro E-endib Angelist Glastor Google per le offerte di lavoro Associazione Americana di Marketing Com WeWorkRemotely ZipRecruiter L'importo che guadagnerete con un lavoro nel marketing digitale dipenderà dalla vostra posizione, dal luogo e dall'esperienza Ecco gli stipendi medi annuali per alcune posizioni comuni nel marketing digitale Specialista in marketing digitale, 55 dollari Manager di marketing digitale, 97.000 dollari Specialista SEO, 77 dollari Responsabile marketing dei contenuti, 81.000 dollari Manager dei social media, 75.000 dollari Specialista PPC, 60 dollari Responsabile marketing affiliato, 71.000 dollari 12. Avviare un'agenzia di marketing digitale È un ottimo momento per avviare un'agenzia di marketing digitale, poiché le aziende spendono più che mai in pubblicità digitale Per avviare la vostra agenzia, dovrete sviluppare una serie di competenze di marketing digitale a tutto tondo, in modo da essere in grado di fornire servizi di qualità ai clienti, indipendentemente dalle loro esigenze La conquista dei clienti sarà ovviamente fondamentale per la vostra capacità di generare entrate Dovrete adottare le misure per trovare clienti di cui abbiamo parlato in precedenza e applicarle in scala La gestione di un'agenzia ha i suoi vantaggi in questo senso, in quanto potete utilizzare i membri del vostro team per gestire molti di questi compiti al posto vostro oppure, potete esternalizzare il lavoro a dei freelance Quando avviate un'agenzia di marketing digitale, avete diversi modi per fatturare ai vostri clienti A ore, con la fatturazione a ore, i clienti vengono addebitati in base al numero di ore di lavoro sul loro progetto Questo metodo è più semplice quando si trascorre molto tempo a tu per tu con il cliente, poiché può essere più difficile tenere traccia di offerte di servizi complesse Retainer, è il modello di pagamento più semplice, in quanto si stabilisce la quantità di lavoro da svolgere per il cliente e si concorda un compenso mensile fisso Questo modello è spesso più semplice per i clienti, che sanno quanto pagheranno in anticipo Percentuale della spesa di marketing Con questo modello di tarifazione, l'agenzia debita ai clienti una percentuale concordata dell'importo speso per il marketing Si tratta di un modello interessante se i vostri clienti stanno crescendo rapidamente, perché il vostro reddito crescerà insieme alla loro attività Quanto si può guadagnare avviando un'agenzia di marketing digitale? L'importo che si può guadagnare con un'agenzia dipende in larga misura dal numero di clienti della propria attività Il costo medio dei servizi di marketing digitale per le piccole imprese nel 2020 va da 2.500 a 12.000 dollari al mese Se riuscite a trovare 10 clienti fissi, la vostra agenzia può generare un buon reddito Principali insegnamenti Ci sono molti modi diversi per guadagnare con il marketing digitale Si possono apprendere diverse competenze, tra cui SEO, gestione PPC, e-commerce, content marketing o gestione dei social media e vendere questi servizi ai clienti La creazione di un sito web con un blog aiuterà ad affinare le vostre competenze e potrà essere utilizzata per attirare nuovi clienti per i vostri servizi Se volete vendere prodotti, potete creare prodotti digitali per conto vostro o aderire a programmi di affiliazione e vendere prodotti di altre aziende Potete utilizzare il vostro sito web come fulcro della vostra attività e aggiungere un'ulteriore monetizzazione, pubblicando annunci sul vostro sito Se volete un lavoro fisso, ci sono molte aziende che assumono per posizioni di marketing digitale e ci sono tonnellate di job board per Trovare rapidamente le posizioni aperte Se volete avviare una vostra attività di marketing, potete creare un'agenzia di marketing digitale e vendere una serie di servizi ai vostri clienti Il marketing digitale è destinato a crescere Dedicare del tempo allo sviluppo delle vostre competenze vale l'investimento e vi aprirà ulteriori opportunità